Salve a tutti, sono Domenico Consale, sono in compagnia qui del mio amico Enzo Salvi qui a San Giovanni Rotondo 21 settembre per un concerto per Padre Pio. Tra un po' inizieremo questo concerto di devozione al nostro santo patrono. È la prima edizione, la prima volta che si festeggia Padre Pio qui in paese e abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi qui in serata l'ospite d'onore Enzo Salvi a cui cedo immediatamente la parola. Io sono qui, buonasera, sono veramente molto emozionato, ho passato una meravigliosa giornata con il mio amico Domenico Consale che oltre che essere un bravissimo cantante è anche una persona meravigliosa. Sono dovuto a Padre Pio e ho risposto a una richiesta di amicizia e sono onoratissimo questa sera di vi sedere in questa circostanza che resterà nella storia grazie al tutto all'impegno del mio amico per realizzare un concerto di devozione nei confronti del nostro amatissimo Padre Pio. Che dire, vi aspettiamo numerosi, speriamo, già vediamo lo scrosciare della gente che si sta a provincuando a conquistare il posto davanti al palco dove tra un po' il mio amico Domenico si esibirà in grande classe accompagnato dalla sua band. Mi raccomando.